Di nuovo insieme cari marchigiane, cari italiane, ben ritrovati, siamo pronti a ripartire le 8 puntuali, 8 e 52 secondi per essere precisi, tanti temi oggi sul tavolo, non solo il G7 salute dal punto di vista dei lavori, della mole, del teatro delle muse nel pomeriggio, di un centro blindato, tra poco andremo a collegarci con la nostra Laura Meda che vedo lì quasi pronta, ma c'è anche la questione altrettanto centrale e comunque riferita al G7 delle parole del presidente Acquaroli che in sostanza ha detto è stato scelto il capoluogo Ancona, le marche per il G7 sulla salute perché qui la salute funziona, da lì un florilegio di messaggi quasi tutti negativi, alcuni anche positivi, stiamo leggendo anche di notizie e di riferimenti positivi, buongiorno per esempio da Barbara, la sanità non funziona, se hai le possibilità vai a pagamento, altrimenti non ti curi, poi c'è una seconda parte riferita ad Acquaroli che cerchiamo di evitare di leggere. La sanità marchigiana funziona benissimo, è inutile che vi lamentiate a partire dall'ospedale di Ascoli, Piceno fino ad Ancona, sia per le prenotazioni sia per le visite specialistiche, sono avanti e l'attesa massima è di dieci giorni. Giacomo io onestamente rispetto il tuo punto di vista ma ho provato anch'io la sanità e non si parla di, come dici tu, Giacomo Monterotti, parlare male delle persone, dei professionisti, non c'entrano niente i medici, i sanitari, gli infermieri sulle liste d'attesa, sulle lungaggini, quella è una questione che afferisce all'amministrazione della sanità, alla burocrazia della sanità, più volte abbiamo detto che grazie per miracolo e sono miracolosi i professionisti e le professioniste della sanità, caro Giacomo Monterotti che si riesce a sopperire alle carenze nella gestione amministrativa della sanità. Non si parla male dei medici, non certo qua da questi microfoni e se lei, Giacomo, lei dice che l'attesa massima nella sanità è di dieci giorni, magari se sente un paio di messaggi tre che arrivano in diretta, si può ampliare la gamma delle opinioni, che nelle marche l'attesa massima nella sanità sia di dieci giorni, più la dico e più mi colpisce nella sua inattendibilità, onestamente, i fatti parlano chiaramente. Andiamo alle notizie con tra poco anche il collegamento della nostra Laura Meda, ma abbiamo anche Giacomo Giampieri in campo, il nostro Francesco Micucci tra poco mi darà il nulla osta, nel frattempo vado a Pesaro con la nostra rassegna stampa che nella seconda ora sfoglia i giornali. Ex tribunale, cantiere fermo da oltre cinque anni, ma il museo va avanti, il comune affida alla Fondazione Pescheria il compito di redigere il piano, sarà un polo espositivo dedicato alle moto e accoglierà anche opere d'arte, quel famoso museo della moto sta per diventare realtà. Intanto, fratello, se fai un pochettino più piano perché sennò la gente si preoccupa che qualcuno si faccia male o che si stia spaccando qualcosa. Andiamo, fratello sarebbe Francesco. Accertato invece un nuovo caso di dengue, il comune rafforza la disinfestazione. Trattamenti, qui siamo a Pesaro e non a Fano, trattamenti nella zona tra il porto e il mare. L'uomo si trova ricoverato da qualche giorno, una delle persone che hanno affrontato la dengue e che racconta quello che la dengue è, sono stato malissimo, non lo auguro a nessuno. Sono stato molto male, febbre alta e vomito, valori del sangue sballati, dolori agli occhi e alla testa. Così rispondo a chi chiede giustamente ma poi cos'è questa dengue, è pericolosa, è mortale, eccetera. Abbiamo già spiegato che è un'influenza molto severa, si parla addirittura di un'influenza spaccaossa, però non ha un tasso di mortalità superiore all'influenza tradizionale. Ritrova l'ex amico su Facebook per ricattarlo, questa è incredibile, una arzilla settantenne che ritrova un suo ex conoscente dopo 40 anni, gli rinfaccia un presunto reato gravissimo e quindi essere stato con una minorenne e prova a spillargli dei soldi. Accusata di estorsione, la donna avrebbe parzialmente ammesso patteggiando tre anni e sei mesi, entrambi sono settantenni. Vada Durbino, attività di ricerca e nuovo personale, vittime sacrificali dei tagli agli Atenei. Il direttore generale di Uniurb, preoccupato per questo rischio tagli, nessun corso salterà, ma questa è una spallata inferta allo sviluppo. E su questo abbiamo ricevuto messaggi di chi diceva ma come, questo governo non doveva migliorare i fondi per la ricerca. Questa preoccupazione non viene dai tv, non viene da noi, ma viene dai rettori degli Atenei. Abbiamo ricevuto le stesse critiche da parte del rettore di Urbino, del rettore di Camerino e del rettore di Macerata. Sanità, questa volta un presidio davanti al Santa Croce, situazione sempre più allarmante. Liste d'attesa, emergenza in affanno, poco personale e il dramma della non autosufficienza. Ecco, questi sono i messaggi che arrivano dai sindacati e poi abbiamo ricevuto anche messaggi invece di chi dice che la sanità funziona perfettamente. Per favore, girate questa impegnativa a quel signore che ottiene tutto in dieci giorni. Vuoi vedere che mi fa il miracolo? Ecco, capisco, c'è anche questo tipo di reazione. Io cerco solamente di tenere la barra dritta sull'educazione e sui diversi punti di vista. Poi dopo ognuno ha la sua di storia, dai. Per quanto riguarda la sanità, mi è capitato di avere prenotazioni fissate per l'anno successivo, ma chiamando tutti i giorni al CUP si riesce a trovare posto molto prima. Ecco, non è neanche detto che uno si debba mettere lì come di mestiere. Cosa fai tu nella vita? Io cerco di prenotare una visita. Non mi pare che sia questo l'optimum. Ci sono persone che disdicono. Inoltre, questo è interessante, bisogna avere anche un po' di fortuna. Se magari c'è chi disdice il tuo intervento, potresti infilarli nei tuoi appuntamenti. Buongiorno a Quaroli, non so che film ha visto. Io ho dovuto fare un attacco urgente con il CUP sei mesi. L'ho dovuta fare a pagamento 380 euro. Altro messaggio di questo tenore. Torno un attimino ai dati della carta stampata. Dopo aver sfogliato il Corriere per il Pesarese, quindi Urbino, Fano, Pesaro, vi porto all'edizione per Macerata e Provincia. Intanto vedo i miei due colleghi quasi pronti. Ci siamo, ci siamo. Da chi partiamo, caro Franzo? All'imbarass della scelta. A me l'arduo compito. Li vedo entrambi collegati. Allora, eccoli qua. Vedo Giacomo Giampieri nella zona di Piazza Ugo Bassi, sperando che mi senta. Nella parte destra dello schermo, che bella questa forza in campo, vedo Laura Meda che si trova presso la mole vanvitelliana. Allora, da un lato, questa è un po' l'idea che abbiamo condiviso con la nostra responsabile della redazione, Linda Cittadini. Da un lato la questione viabilità che vi interessa ed è giusto questo. Dall'altro, quello che dovrebbe interessare un po' tutti, non solo i cittadini di Ancona, non solo la viabilità, ma anche i temi che usciranno proprio da quella mole vanvitelliana. Intanto, prima c'è sempre la cronaca. Allora, partiamo dalla viabilità. Velocemente, Giacomo Giampieri da Piazza Ugo Bassi. Com'è la situazione alle tue spalle? Cosa ci puoi dire in diretta? Buongiorno Maurizio, buongiorno Laura, buongiorno a tutti. Sì, sì. In Piazza Ugo Bassi sostanzialmente possiamo essere testimoni in questo momento di una situazione che procede un pochettino a relento, ma devo dire senza particolari criticità. Bisogna essere molto onesti anche nel descrivere fedelmente quello che sta accadendo. Sono partiti ovviamente gli autobus del servizio pubblico e quindi in questo caso anche quelli che in qualche modo conducono gli studenti alle scuole. Proprio ieri il sindaco di ancora Daniele Simpetti ci aveva raccontato di questo momento di criticità, tra virgolette, in concomitanza con gli orari di punta, quindi quelli di ingresso e uscita dalle scuole e ovviamente anche di ingresso e uscita dai luoghi di lavoro. Ma come potete ben vedere anche con questa panoramica, non so se riuscite a scordere, ma devo dire che la situazione è abbastanza sotto controllo. Si crea un pochino più di traffico e poi magari più tardi cercheremo di andarlo a catturare anche con le immagini del collega Andrea Piano che è in zona ugualmente, nella zona appunto della porzione in cui si aspettano gli autobus prima di partire. Però, ripeto, anche là dove ci sono i semafori la situazione in questo primo momento della giornata sembra sotto controllo. Interpretiamola così, Giacomo, vuol dire che i cittadini di Ancone, chi lavora ad Ancone, quindi raggiunge il capoluogo regionale, è stata ben informata la popolazione e si sta ben comportando, consapevole che in particolare la giornata di oggi sarà un pochettino da bollino rosso. Quindi stanno ascoltando le notizie che anche tu dai, diciamola così, dai. Devo dire che ho visto molta di C-Player, anche ieri onestamente, perché di macchine, al di là di qualcuno che ci sta e non sapesse insomma del G7, abbiamo incontrato anche quelle persone là, sono arrivate dinnarsi al checkpoint e poi sono tornate indietro. Questo può capitare, ovviamente non tutti possono saperlo, anche se era stata fatta ampia comunicazione e discussione di questo evento. Però, tutto sommato, non tante persone hanno raggiunto la zona del centro Capututo, quando gli archi ancora erano aperti, è passato regolarmente, poi dalle 9 e un quarto di ieri non più. Questo proseguirà anche nella giornata odierna, fino a domani, ma ricordiamo, attenzione, poi avremo modo anche di documentarlo dal centro città, lo hai già detto forse, Mauri, dalle 13 occhio perché scatta la zona rossa anche nella zona del Teatro delle Muse. Quindi chiudono le attività, chiuderanno anche le strade. Grazie Giacomo, torneremo da te tra poco. Da Piazza Ogobassi ci spostiamo verso il cuore, l'anima di questo G7 con la nostra Laura Meda. Allora, visto e considerato che l'aria dal punto di vista della viabilità per il momento, anche per il comportamento virtuoso dei cittadini della zona e non di primo piano in termini di criticità, possiamo allora meglio e più a cuore leggero concentrarci sui contenuti che dovrebbero emergere dalla struttura che ospita il G7 Salute che è alle tue spalle. Laura, a te. Sì, grazie Maurizio, lo vedete, la bellissima mole bambiteliana di Ancona che ovviamente farà da cornice a questo importante incontro una bella presentazione ovviamente della città di Ancona per i delegati che sono i ministri della salute e anche i loro vice segretari del G7 e degli altri paesi ospitanti. Probabilmente tu Maurizio l'hai già ricordato insomma durante la rassegna, noi non siamo riusciti a sentirla tutta perché io e il mio operatore Matteo Delicato stavamo arrivando proprio qui appunto alla mole, una giunta, ciò che ha detto Giacomo Giampieri, da questo lato la strada è tranquilla, quindi l'atmosfera è molto tranquilla. Qui ovviamente poi si entra nella zona rossa che è tutta bloccata e si accede solo col pass, ma anche all'interno della zona rossa tutto è ancora molto tranquillo e presto. Noi siamo arrivati poco prima delle 8 e non si muoveva quasi nulla, adesso invece inizia già ad arrivare qualche auto, qualche delegazione. Ovviamente poi l'arrivo dei capi delegazioni sarà invece più tardi, intorno alle 9. Verranno accolti dunque i ministri della salute di Francia, Gran Bretagna, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, il G7 e poi anche i delegati dei paesi ospiti di Albania, Arabia Saudita, India, Sudafrica, scusa se ho dimenticato qualcuno, poi ovviamente il delegato della Commissione del Consiglio Europeo per la Salute e i delegati delle organizzazioni internazionali, tutti si troveranno qua intorno alle 9, accolti dal nostro ministro della salute Orazio Stillaci. L'accoglienza proprio qua alle mie spalle, poi i saluti introduttivi della Presidenza italiana, le foto di rito ovviamente e la sessione vera e propria in cui si inizierà a parlare concretamente di sanità, di salute a partire dalle 10. Scusate, una mosca mi è quasi entrata in bocca. A parte questo, la prima accoglienza in realtà è già stata ieri sera a Numana. Sono arrivate le delegazioni dei ministri, dovevano arrivare via mare ma a causa del maltempo l'arrivo è stato un po' più separato, è avvenuto via terra con un esercito di maserati che insomma ha anche creato un'atmosfera particolare nella città di Numana e poi la cena alla torre, una cena molto particolare potremmo dire all'insegna della dieta mediterranea che tra l'altro è uno dei punti di cui si tratterà anche se l'attenzione si concentrerà poi sulla resistenza antimicrobiotica e poi anche su ovviamente il lavoro per prevenire le prossime pandemie, un altro dei punti è quello in realtà dell'allungamento della vita in cui noi italiani siamo secondi solo al Giappone. Il ministro Sillaccia ha proprio detto nei giorni scorsi che porterà ad esempio sotto questo tema la dieta mediterranea e ieri diciamo che i delegati hanno avuto un primo assaggio di questa dieta con la cena alla torre. È stata una serata particolare, quasi riservata appunto, un momento informale in cui però si inizia un po' già a parlare di quelli che sono i temi che poi verranno discussi il giorno dopo, quindi che verranno discussi oggi. Vogliamo svelarvi il menù di questa cena nel menù lastice alla catalana del Conero con insalata di pacca sasso e maionese alla lavanda del Conero, quindi insomma un menù assolutamente tipico, un menù che siamo sicuri i delegati avranno gustato e poi ovviamente non dimentichiamo anche le bellezze di Numana che hanno fatto da cornice insomma questa cena, questo arrivo e diciamo che le marche tra la riviera del Conero e Ancona si stanno presentando al meglio ai delegati e ai ministri che arrivano da ogni paese, dal resto del mondo. Insomma possiamo dire da ogni continente perché dal Canada al Giappone veramente arrivano da ogni continente. Per ora è tutto, l'atmosfera è ancora tranquilla, come vedete ci sono solo tante mosche ma i delegati ancora devono arrivare a te. Saranno state attirate dalla maionese alla lavanda del Conero che onestamente non avevo neanche mai sentito. Grazie alla nostra Laura Meda e complimenti anche per la colazione un po' sui generis, c'è l'occasione per ringraziare chi si sta adoperando per noi direttamente sul posto nei luoghi nevralgici del G7. Torniamo alla rassegna stampa, si funziona la sanità, settimana scorsa ho chiamato il CUP, mi hanno risposto dal computer, sei numero uno, il signore dice non c'è posto. Insomma qui torniamo sul tema della sanità, funziona o non funziona, le parole del Presidente Acquaroli che vi hanno molto scaldato. Le parole buone invece sono come la pioggia che bagna il terreno, bello questo proverbio africano, oggi di parole buone, grazie per il messaggio, ne abbiamo lette poche purtroppo. Franca Canalini, altra testimonianza sul CUP, ogni volta che ho telefonato mi hanno detto che le liste d'attese erano chiuse, l'ultima volta c'era disponibilità dopo un anno ad Urbino, io sono di Ancona, quando ho chiesto se ci fosse disponibilità a pagamento mi hanno risposto che potevo andare dopo due giorni. Altra ennesima testimonianza sullo stesso tenore, stiamo cercando di dare voce a tutti, anche a chi dica che la sanità marchigiana funzioni bene, però la maggior parte dei messaggi, e questo lo dice la cronaca, sono negativi rispetto alla sanità. Andiamo ora alle notizie dal maceratese dopo aver sfogliato il pesarese. Pagine interne, come sempre, SOS per i tagli alle università, segnalazione del rettore di Urbino, segnalazioni dei rettori Mcaurt e Leoni, rispettivamente di Macerata e Camerino. Ci attendono scelte difficili, anche se la politica risponde, nessun allarmismo sui fondi negli anni incrementi record. La Tini della Lega parla di un'ottimizzazione delle risorse, ma anzi del PD invece parla di un colpo devastante. Altre news legate al termovalorizzatore. No al termovalorizzatore, dice la Lega, ma l'ordine del giorno poi viene ritirato. Il capogruppo Alessandrini spiega il piano regionale dei rifiuti è in una fase preventiva e non esecutiva. Prima la sanità, con la vicenda del Consiglio Comunale, prima aperto e infine chiuso. Ora l'autorette dell'ordine del giorno poi ritirato contro il termovalorizzatore. Insomma, la politica a Macerata sta vivendo momenti di confusione. Luna di miele, e questa è una bella notizia, una buona notizia oggi c'è, l'una di miele sulla via lauretana, occasione unica per conoscersi meglio. Due sposini lombardi, si sono sposati, non è che ci avessero tanto bisogno di conoscersi di più, però è stata un'opportunità per corroborare il proprio sentimento. Diciamo così, eccoli qua, due sposini lombardi in cammino per 170 chilometri tra Assisi e Loreto, passando anche per Macerata. Niente sabbia bianca, paradisi caraibici, ma un viaggio di nozze, è tutt'altro che convenzionale camminare per 170 chilometri, anche con tante difficoltà incontrate lungo la strada, ma la cosa li ha resi ancora più innamorati. Questo, se non altro, hanno raccontato una volta arrivati. Ancora news da Tolentino, in questo caso è il tema della dengue, un caso di dengue. Scatta subito la disinfestazione. Abbiamo la conferma dell'AST, e allora ha annunciato il sindaco di Tolentino, Sclavi. Partiamo subito con le contromisure. Cardio, invece, oncologia. Nel weekend, confronto tra esperti a Camerino. L'iniziativa in programma all'ospedale. Si svolgerà a Camerino venerdì e sabato, nel polo Lodovici di Unicam, il summit di cardio-oncologia. Dal titolo un percorso di sfide e collaborazione. Appuntamento molto importante. A proposito di quella sanità che funziona, non funziona, qui c'è un episodio di cronaca. La visita non lo soddisfa, scatena il caos al pronto soccorso. Infastidisce medici, infermieri, pazienti. All'arrivo dei carabinieri li insulta. Finisce nei guai una pugliese di 49 anni. Scatta la denuncia inevitabile per oltraggio. Questo è successo all'ospedale di Macerata. Voglio dare un'altra notizia positiva stavolta. Da Tolentino, municipio di Tolentino, nel 25 partirà il restauro. Continua l'iter per il recupero del Palazzo Comunale in Piazza della Libertà. Tanti comuni, tante sedi comunali sono ancora oggi ferite dal sisma. Io ricordo quello di Castella Raimondo in particolare. Buongiorno, settimana scorsa ho prenotato visita senologica. Si parla ancora di sanità, ancora commenti rispetto a queste parole forti del presidente Acquaroli. Parole divisive da quanto stiamo documentando. Hanno scelto il G7 per le Marche, nelle Marche, perché qui la sanità funziona. Apriti cielo, commento di Monica da Castelfidardo. Ho prenotato visita senologica e mammografia, una eseguita nello stesso giorno, l'altra una settimana. Non ci potevo credere, ho pensato forse qualcuno non ci prova neanche più a chiamare il cupo, forse fattore C. Buon giorno da Monica di Castelfidardo. Anche questa la segnaliamo tra il lato positivo e negativo della sanità. Buongiorno Maurizio, sul sistema sanità che non funziona. Devo fare un ringraziamento ai dottori dell'ospedale di Senigallia perché un anno fa mi hanno salvato la vita. Aggiungo da loro, ho visto persone che piace fare il mestiere, cui piace fare il mestiere che hanno scelto. Ma questo certo mi permetti di ribadire un concetto che quando si parla di sanità che non funziona, dal tono dei messaggi che stiamo ricevendo, non si parla dei medici o degli infermieri o del personale. Si parla della gestione burocratica, amministrativa della sanità. Si parla di liste d'attesa, si parla di personale che manca. Quella è la sanità che state criticando, che state attaccando. Su questo voglio essere chiaro perché se no sembra che si faccia riferimento ai medici. Invece per fortuna che ci sono infermieri, medici appassionati con davvero il cuore grande per questo mestiere. L'edizione di Ancona e provincia del Corriere parla tanto del G7. Noi ne stiamo parlando, ma non stiamo facendo una trasmissione monotematica sul G7 perché non ci pare giusto questo. Ci seguite da tutte le marche e anche da altre regioni. Quindi cerchiamo di raccontarvi un po' di tutto. G7, l'appello di Silvetti va a vuoto, troppi disagi, noi fermi due giorni. Corsi blindati dalle 13, nella parte bassa fino al porto. Non è il momento dei provincialismi, aveva detto il sindaco. I commercianti però protestano. 9 e 10 chiuso, andrà tutto bene, viva il G7. Un messaggio di sfogo da parte di un titolare di struttura recettiva. C'è stata molta confusione, non si sono capite bene le regole delle restrizioni. Questo ci dice Giorgio. E poi noi non apriremo per niente, la gente starà lontana da qui. Perciò avrebbe poco senso. Un altro Giorgio, questa volta della Ley Line, il primo era di Jimenez. Queste sono le reazioni di chi ci lavora quotidianamente nel cuore del capoluogo regionale. Ricordando che oggi in particolare si entra solo con il pass agli archi, sopportiamo, è una vetrina. Corsi e ricorsi, volti diversi, opinioni diverse sul tema del G7. Ma si parla anche di università, dei presunti tagli che dovrebbero, potrebbero arrivare. Rettorato, intanto, i lavori al via ad aprile. In tre anni tornerà a risplendere. Ecco un rendering di quella che potrebbe essere la nuova struttura del Palazzo di Vetro, che una volta ospitava la provincia di Ancona. Sui tagli, però, registriamo le parole anche del Rettore Gregori. Taglio pesante, servono più risorse. Il Rettore di Università Politecnica delle Marche contro la drastica riduzione del fondo di finanziamento ordinario. L'antenna sopra la baia. Si parla di antenne, poco fa abbiamo parlato di quella di Fano, per cui si dovrebbe trovare un sito alternativo. Tra poco ci torneremo su quello. Intanto qui l'antenna da 36 metri, che potrebbe spuntare a Porto Nuovo. Studiamo una soluzione alternativa, annuncia il Parco del Conero. Con il suo presidente Conte va dimostrato l'interesse pubblico dell'impianto. Critico il consigliere regionale Mangialardi. Fa discutere la ventilata possibilità di una nuova antenna di telefonia mobile nella zona del Conero. Per la precisione, all'imbocco del parcheggio scambiatore di Porto Nuovo, come riportato anche ieri nella nostra rassegna stampa. Altre news locali con Falconara, protagonista purtroppo in negativo. Non devi fumare e poi la picchia. Lei riesce a salvarsi, a fuggire di casa. Lui viene condannato. Maltrattamenti, questa l'accusa. Tre anni e mezzo inflitti ad un moldavo. Torno un attimino da voi. La sanità funziona? Io faccio tra dieci giorni la cataratta, ma a pagamento, perché altrimenti la facevo nel 2026. Il medico mi ha detto che la regione stanzia soldi che durano solo per i primi tre mesi dell'anno. La sanità funziona? Dove? Punto di domanda. Altro sfogo. Ma noi abbiamo ricevuto anche messaggi di alcuni cittadini, la minoranza per carità, che dice che la sanità invece funzioni. C'è quel signore che è su Facebook e quindi l'ha scritto pubblicamente, dice che massimo dieci giorni nelle Marche si hanno le prestazioni. Buongiorno, la sanità nelle Marche segue l'andazzo di quella nazionale. Le prestazioni urgenti sono di grande qualità. Tutto il resto è pesantemente sotto organico. Perché si lascia un po' spazio alla sanità privata. Altra opinione sul tema. Buongiorno, sono di Camerano. L'aria è irrespirabile e tossica. Abbiamo fatto numerose segnalazioni al Comune, all'Arpam. Questa situazione va avanti da un anno, non si è risolta, anzi si è peggiorata. Per quali motivazioni? L'aria a Camerano sarebbe irrespirabile e tossica. Io ho anche parenti che abitano a Camerano. Facci capire da che zona ci chiami. Siamo in diretta tutti i giorni e tanta gente ci segue anche da Camerano. Questa è la prima segnalazione che ricevo di questa aria che viene definita irrespirabile. Torno alle notizie. Completo il giornale per la zona di provincia di Ancona. Ride nel presepe, siamo a Loreto. Statuine storiche distrutte. Hanno resistito alle guerre, non ai vandali. Danno da 20.000 euro a Porta Marina. Un presepe che anche io, come raccontavo, ho visitato tante volte con i miei figlioli, con la mia dolce signora, un tuffo al cuore. Hanno sparso pure i coriandoli per farsi beffa di questo luogo sacro, lo sfogo di Capodaglio. Aiesi, nuove antenne, anche qui si parla di antenne. Il Comune cerca aiuto, una società per studiare i piani di rete in carico per aggiornare il regolamento sulla base del quale poi si innestano le antenne. Arrivate tante richieste da compagnie telefoniche per metterne ancora e ancora e ancora. Nel frattempo, dai miei monitor di controllo, segue sempre il movimento del collega e amico Giacomo Giampieri, che mi pare sia in zona via Martiri della resistenza del capoluogo regionale, se mi fai un cenno Jack, vengo subito da te. Eccolo, sì sì. Ci spostiamo nuovamente in live, in diretta, con il tema G7. Giacomo si sta facendo la città a piedi per documentarci che aria tira. Grazie intanto Giacomo, a te. Buongiorno di nuovo Mauri. Sì, sicuramente in via Martiri della resistenza la situazione è più complessa, nel senso che sono presenti, anche oltre all'Andrea Piano, che vedete il quadrato là, che sta riprendendo, alle mie spalle, proprio in zona della Rotonda, sono presenti delle fattuglie di polizia locale che stanno disciplinando il traffico, che procede con ordine, ma chiaramente qui si sta creando un imbuto più considerevole rispetto a quello che invece avevamo visto in Piazza Autobasse, anche perché, non dobbiamo dimenticare, che chi ha scelto questa viabilità, ovvero chi arrivava alla Rotonda della stazione, per capirci, e poi veniva deviato verso Piazza Autobasse, o direttamente verso via Martiri della resistenza, per accedere al centro e quindi anche a Piazza della Libertà, alla Galleria, chiaramente del Risorgimento, via Bocconi, per capirci, sta incontrando un po' più di traffico. Però anche in questo caso si procede un po' più a rilento, ma tutto sommato in maniera ordinata, diciamo così. Altro feedback, grazie a te e grazie anche al nostro Andrea, che abbiamo visto spuntare nell'inquadratura. Questa è la situazione in tempo reale, altra zona, quella di via Martiri della resistenza, ci stanno ringraziando voi sempre top, ma di questo G7 di Ancona invece i TG nazionali non ne parlano, forse non mi è capitato di beccare la notizia. Un salutuale grazie Ale e grazie anche ai nostri colleghi in campo. Questo perché ci sono diversi G7 che si stanno verificando nel nostro paese, G7 della cultura a Pompei, G7 della salute, che appunto afferisce al capoluogo regionale. Non c'è una copertura mediatica enorme. Noi, giustamente, doverosamente, essendo marchigiani, avendoli in casa, ne parliamo, ma ripeto, non in maniera esclusiva, in maniera certamente però continuativa. Camerano, zona via Silvio, scandali, zona scuole medie, aria irrespirabile. Altro feedback che ci arriva dopo quello ricevuto precedentemente, e adesso a questo punto verificheremo. Buongiorno, io ho in casa una persona con disabilità e ogni volta che deve fare risonanze o visite, sarebbero esenti, tra l'altro si ritrova la stessa risposta. Ci scrive Enrico, non ci sono posti, liste piene o chiuse. Quando si chiama poi le cliniche private convenzionate, ti dicono, sì, lei non dovrebbe pagare, ma siccome siamo berati di richiesta, il costo è, tac, 60 euro. E' questo rubare alle persone che hanno un diritto alla salute. Noi siamo davvero un paese che crede agli unicordi quando ci dicono che tutto va bene. E' lo sfogo di Enrico, che fa riferimento alla sanità, soprattutto quella dedicata alle persone più fragili. Anna, e poi torno ai giornali, ho chiamato il cupo il 31 maggio per una risonanza. Liste chiuse, mi hanno messo in lista pre-appuntamento, ma ancora dal 31 maggio devo essere chiamata. Questo non per rispondere a chi dice, forse in maniera un po' parziale, no, no, funziona tutto bene, entro dieci giorni ci hai le visite. Ragazzi, dire queste cose onestamente è lontano dai fatti reali e tangibili. Dai, su, parliamoci chiaro. Fabriano, cartiere, completiamo così il giornale per Ancone e provincia, poi vado alla zona di Ascoli e San Benedetto. Oggi, sciopero di 24 ore, amici e amici di Fabriano, abbiate fiducia in noi. L'appello dell'azienda, su Mità Verona, illustrate le prime ricollocazioni. Il manager Giacobbello chiede fiducia, non lasceremo le marche, troveremo una soluzione. Poco fa mi è arrivato un messaggio che ho toccato come le cose sante, perché è da uno che sta vivendo questo dramma sulla sua pelle e dice, ci hanno licenziato con un messaggio, come fanno a chiedere fiducia? Su questo, ragazzi, alzo le mani, non posso dirvi nulla. E massima solidarietà, quello sì, la possiamo esprimere. Dovrei fermarmi, ma non sarebbero il nostro mitico Franz, se approfitto, l'avevo promesso di dare un'occhiata veloce al giornale per Ascoli e San Benedetto. Il cassonetto ti riconosce, in senso buono, chiaramente, non è che ti riconosce come simile. Il cassonetto ti riconosce, il titolo curioso del Corriere, la differenziata virtuosa vale lo sconto sull'Atari. Il Piceno riceverà 13 milioni per la raccolta meccanizzata e intelligente, ammessi ai fondi del Ministero i progetti presentati dall'Ata nel 2023. La summa di questa notizia è se differisci in maniera corretta, se sei bravo a fare la raccolta differenziata, paghi meno di tassa. E questo per me è un grande, grande vantaggio, onestamente. Voglio dare un punto, sempre da Ascoli e San Benedetto, da San Benedetto scendo in campo insieme a Massi per la gestione dello stadio Riviera. Rapullino, proprietario di Sideralba e dell'area Brancadoro, si propone, mi metto a disposizione, in un modo o nell'altro questo stadio andrà gestito. La Samb ieri, attraverso il suo presidente, esprimeva perplessità per costi elevati. Sempre da San Benedetto, basta con questi allagamenti all'agraria. I residenti hanno deciso di raccogliere firme su questa zona. Da sabato due banchetti per la petizione, l'immagine che vedete non è relativa ad oggi, prevista una relazione del delegato Speca sul progetto, in realtà alla fine mai iniziato. Controlli e paura, anche a San Benedetto, sul caso Dengue è necessario fare presto ed evitare un focolaio. Qual è la situazione ad oggi? E allora torno ai giornali anche di livello nazionale. C'è un secondo caso in zona Pesaro, c'è un primo caso in zona Tolentino. E allora il sindaco Sclavi ha annunciato una immediata disinfestazione. Mi fermo ricordandovi che oggi, anche oggi, c'è un'allerta meteo di colore giallo sulle Marche, su gran parte delle Marche, tranne che nella zona della costa Ascolana e Fermana, per venti a livello di burrasca e livelli di tempesta. Tempesta non significa che pioverà con tempesta, no. Il livello del vento oggi non pioverà sulle Marche. Previsioni che danno appunto questa segnalazione. Fate attenzione per chi ci segue, in particolare nelle zone dell'entroterra, ma anche la costa del Pesarese e dell'Anconetano. Se avete fioriere, vasi, tende, teloni, metteteli come le cose sante, perché rischiate di farveli portare via dal vento. Adesso sì, che mi fermo a tra poco con ancora la segna stampa, il nostro Giacomo Giampieri, il nostro Andrea Fiano e la nostra Laura Meda dal cuore del G7 Salute. Ottica Leonardo, presente ad Ancona da 30 anni, è il sinonimo di accoglienza e professionalità. Montature delle Marche più prestigiosi, personale qualificato ed esperto nella visione a tua disposizione e laboratorio interno con strumentazione innovativa per personalizzare ogni occhiale. Ottica Leonardo, accoglienza e professionalità da 30 anni al tuo servizio. Ottobre è il mese della prevenzione visiva. Prenocca un controllo gratuito della vista. Ti aspettiamo. Studio 3A Una squadra di professionisti che lavora con un unico scopo far valere i tuoi diritti. Zero anticipi e zero preoccupazioni. Ci pensa Studio 3A a farti ottenere il giusto risarcimento. Studio 3A, dati alla mano, fa percepire in media i nostri assistiti il 100% in più rispetto alla prima stima dell'assicurazione. Studio 3A Diamo valore ai diritti. Per una professione sicura e all'avanguardia corsi di formazione per saldatori ad Ancona, Iesi e Fano per ottenere il patentino rilasciato dall'Istituto Italiano della Saldatura. Valido nel mondo. Info 075 69 10 521 www.aironepg.it Per qualsiasi ristrutturazione la faccia sia con te. Ben arrivati a Iesi. Questa è Brava Casa Arredamenti. Cucine, camere, camerette, living. Il nostro showroom è ricco di proposte per la tua casa. Stai cercando un tavolo intelligente per accogliere tutti i tuoi amici? Oppure un divano letto contenitore che unisce praticità e comfort? Ti serve più spazio nella tua camera per conservare piumoni e cuscini? Da Brava Casa troverai sempre la soluzione giusta per le tue esigenze. Vieni a trovarci e approfitta di tutti i nostri servizi. Da noi trovi anche pezzi unici. Non lasciarteli spuggire. Siamo a Iesi, in provincia di Ancona. Brava Casa, la nuova era della convenienza. Ottica Cristina Montenori Qualità, risparmio, professionalità Occhiali da vista e da sole delle migliori marche Lenti a contatto Strumentazione scientifica Visita computerizzata della vista Via Piemonte 2, Falconara Marittima Ottobre è il mese della vista Prenota un controllo gratuito dell'efficienza visiva da Ottica Cristina Montenori Buongiorno e buonasera Buona gente Questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV una nostra rassegna stampa che è vostra grazie ai messaggi copiosi che anche oggi stanno arrivando mixati con le news dei giornali ma da ieri un ulteriore ingrediente fondamentale quello del G7 Salute Siamo anche oggi in diretta e con la possibilità di collegarci con i nostri colleghi vedo pronto già Giacomo Giampieri perché tra poco dovrebbe passare per le vie del capoluogo regionale una prima delegazione di coloro che poi racconteranno la salute del futuro del nostro pianeta Terra proprio dalla moleva vitelliana di Ancona eccolo qua Giacomo pronto sulla sinistra dello schermo sulla destra tutto tranquillo ancora alla mole mi colleggo subito con te Giacomo vai Maurizio buongiorno stiamo osservando anche le nostre palle quello che sta accadendo da un lato potete vedere che la corsia per arrivare verso il centro città di Martire della Resistenza si passa nell'altra invece scoprono molte meno macchine ad eccezione insomma di quelle che vengono fatte passare da Piazza della Libertà perché potrebbe essere arrivato il momento del passaggio delle delegazioni non a caso si stanno chiudendo le prime strade la polizia locale sta cercando in maniera esemplare di far rispettare i provvedimenti ai cittadini tanto che non si riesce a salire ad esempio verso la zona della regione verso via Tiziano per capirci o verso via Michelangelo quindi ci sono ci sono alcuni problemi in questo momento di viabilità ma è inevitabile perché stanno per passare le delegazioni mi viene da dire che scendendo dal centro città saranno ovviamente direzionate quelle che provenivano da sud quindi da Porto Novo quelle che hanno dormito e soggiornato chiaramente nella Baia e che hanno preso l'asse passeranno di qui proprio da Piazzale Europa e poi si dirigeranno alla Mole Pambitelliana noi pronti a riprendere la linea non appena arriveranno le prime delegazioni naturalmente le auto con le scorte quelle blindate ma comunque adesso qualche congestione in più da un punto di vista in traffico c'è lo potete vedere anche alle spalle e ugualmente da questo lato eh sì in questo momento stai proprio documentando un quasi blocco stradale traffico inevitabilmente congestionato siamo in uno dei punti principali della viabilità da e per il centro cittadino stanno per chiudere adesso Maurizio stanno per chiudere stanno per chiudere insomma la portia ecco vediamo la chiusura in questo momento in tempo reale in diretta grazie al nostro già controlli il meteo che fa piove no? tutto ok ho visto? no controllavo controllavo che stanno volando anche degli elicotteri naturalmente perché è evidente che tra pochi minuti quando il ministro Sfilla ci riceverà gli omologhi ci saranno dei dispositivi di sicurezza non indifferenti salutiamo anche chi in questo momento ti sta passando accanto con il bus siete in diretta su ETV questa è la testimonianza in tempo reale della chiusura della strada che da piazza Ugo Bassi porta verso il centro di Ancona la zona per intenderci che va verso la male Vavitaliana Mauro in secondo solo ringrazio il collega Andrea Fiano mi sta dicendo che il blocco dovrebbe essere proprio fuori dalla galleria in modo tale che poi possono passare insomma da via Martiri piazza all'Europa e dirigersi verso la zona degli archi e quindi poi la mole perfetto questo questo l'aggiornamento in diretta richiamaci pure quando dovesse arrivare la prima delle delegazioni di coloro che a livello ecco vedete alle spalle di Giacomo la strada deserta in questo momento quindi testimonianza oculare di quelle chiusure che avevamo accennato torno un attimo da voi sempre con il nostro tema principale di oggi determinato inevitabilmente dalle parole forti della Presidente Acquaroli questione G7 scelgono le marche per ospitarlo perché nelle marche la sanità funziona da lì apriti cielo ricordo ancora non si tratta di un giudizio di merito sui sanitari sui medici sul personale che invece è eccellente quanto sulla gestione della sanità intanto vedo pronta anche la nostra Laura Meda tra un secondo sono da lei ciao Maurizio ho chiamato CUP 3 novembre 23 per un'ecografia all'addome mi hanno risposto non c'era posto e ancora mi devono richiamare premetto che poi sono andata privatamente grazie Maria Grazia dal 3 novembre 23 quindi quasi un anno fa ancora aspetta questa chiamata a proposito invece da Marina della raccolta differenziata ad Ascol abbiamo detto meglio differenzi meno paghi la tassa complimenti alla città di Fermo per questa iniziativa e questa struttura guardate un po' c'è davvero una strumentazione tecnologica che ti aiuta a fare la differenziata in modo più azzeccato anche per evitare multe perché se conferisci male rischi pure la multa è pronta Laura vado allora grazie al coordinamento del nostro Francesco Amicucci in cabina di regia alla Mole Van Vitelliana siamo dentro finalmente siamo nel cuore del G7 Salute vai Laura Sì grazie Maurizio qui siamo in attesa appunto dell'arrivo delle delegazioni ci hanno detto che è confermato l'orario delle nove forse qualche minuto più tardi però certo anche vedendo quello che ci sta raccontando Giacomo insomma stanno arrivando intanto io vi racconto quello che è stato invece il passaggio della sicurezza per arrivare qua noi abbiamo già un pass per accedere alla zona rossa poi ovviamente abbiamo fatto dei controlli per entrare alla Mole e ancora abbiamo avuto un altro pass successivo per arrivare qui proprio nel cuore della Mole dove alle mie spalle arriveranno le delegazioni quindi insomma non è semplice anche passare i controlli di sicurezza ovviamente per la tutela la sicurezza delle delegazioni sentiamo anche in volo ormai da molti minuti diversi elicotteri che sembra si avvicinino sempre di più anche per controllare il passaggio che vi ha raccontato già Giacomo e quindi le delegazioni stanno arrivando alle mie spalle ci sarà la stretta di mano che vi abbiamo anticipato il ministro Orazio Spillà ci accoglierà i delegati degli altri paesi proprio qui alle mie spalle noi fra pochissimi minuti ve lo racconteremo quindi per ora è tutto e appena arriveranno le delegazioni ovviamente vi chiederemo la linea grazie Laura perfetta anche nei tempi accanto a te nel monitor creato dal nostro Francesca Micucci vediamo le immagini che ci porta il collega Giacomo Giampieri si inizia a intravedere qualche cosa è passata un'auto della polizia sintomatica con l'elemento ulteriore del traffico che cala vuol dire che lì sta per succedere qualcosa Giacomo si sta per succedere qualcosa in effetti ancora passano pochissime macchine però l'impressione insomma che nel giro di pochi minuti arriveranno mi conferma il collega Andrea Piano che ovviamente ringrazio quando lo vedete collegato hanno chiuso sopra zona piazzale della libertà giusto Andrea più o meno all'altezza per capirci della parte terminale di via Bocconi e questo è l'arrivo delle delegazioni Maurizio vai 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 in diretta eccola eccole le auto dei ministri con le scorte naturalmente un plutone di forza dell'ordine non indifferente e questo è il momento esatto in cui le delegazioni ministeriali puntano dritte verso la zona rossa verso quella degli archi per recarsi dunque all'appuntamento del G7 Salute che di fatto aprirà il G7 Salute stanno transitando anche dei mezzi ovviamente delle pubbliche assistenze delle ambulanze e poi cercando di girare rapidamente ma forse ormai sono andati li accresceremo alla nostra Laura Meda che è già posizionata e pronta alla mole tra un attimo presumo anche Mauri per fornire un'informazione di viabilità a chi ci sta ascoltando e in questo momento chiaramente le proteste anche di alcuni automobilisti che non riescono a raggiungere i luoghi che vorrebbero in questa fase della giornata ma è evidente dovranno passare le delegazioni cercheremo anche insomma di fornirvi aggiornamenti legati alla ripresa di una regolare viabilità tempismo tempismo perfetto grazie Jack mi verrebbe da dire un po' come in campo sei sempre sul tempo pronto e reattivo come quando giochi a calcio ti ringrazio ringraziamo anche il collega Andrea Fiano hai documentato con tra l'altro il tuo cellulare e quindi maggior merito ancora un altro momento storico dopo la chiusura la transenna una signora che passa al volo mamma mia a momenti vediamo un investimento in diretta per fortuna è andata bene come è andata dopo aver documentato in diretta con il nostro Matteo Delicato ieri l'area di transenne che è stata piazzata lungo Viale Marconi oggi documenti il passaggio hai documentato il passaggio di quel torpedone di Maserati queste auto che oramai sono anche un po' nell'immaginario collettivo devo dire tra l'altro puntualissimo il torpedone di delegati mi verrebbe da fare una battuta anche un po' pepata speriamo che la sanità italiana e marchigiana prendano la puntualità imparino la puntualità dalle delegazioni del G7 perché tutto per il momento si sta svolgendo con puntualità in una giornata nella quale Giacomo sono centinaia i messaggi sul tema sanità un po' un po' perché perché ha di fatto incarnato i pensieri di tantissime altre persone personalmente ho ricevuto dei messaggi di stima nei confronti di Marcello ma anche di persone che si sono riflettute esattamente e riconosciute nelle sue parole perché chiaramente qualcosina da migliorare c'è l'auspicio che hai fatto te è condiviso un po' da tutti Grazie Giacomo a tra poco intanto torniamo tra poco verso la mole vanvitelliana dove dovrebbe cominciare l'arrivo delle delegazioni nella parte esterna della mole stanno arrivando i primi delegati lo vedo da monitor interni dentro invece la mole abbiamo visto poco fa fare capolino il sindaco del capoluogo regionale Daniele Silvetti che accoglierà in maniera ufficiale le delegazioni proprio qui qui avverrà la foto ufficiale la classica foto di rito nel frattempo torniamo ecco le immagini dall'interno della mole vanvitelliana nel frattempo torniamo a voi ma pronti a restituire la linea ai colleghi buongiorno ospedale Mazzoni in collaborazione con qui siamo ad Ascoli dunque con la clinica San Marco funziona tutto bene ad Ascoli per quanto mi riguarda grazie caro Angelo per questo tuo feedback volevo segnalare che quando il CUP dice che sei in prelista quella lista non rientra nella casistica delle liste d'attesa vere e proprie ecco perché secondo alcuni dati statistici la sanità nelle marche va bene buongiorno alla faccia della salute e inquinamento intanto attenzione torno subito alla mole vanvitelliana perché c'è pronta Laura Meda con il sindaco vai Laura siamo in diretta eccoci siamo in diretta ecco grazie Maurizio abbiamo visto il sindaco che è arrivato qualche minuto fa ovviamente per accogliere le delegazioni allora a lui chiediamo insomma queste emozioni avere qua i ministri delegati dei sette grandi e non solo qui alla mole nel cuore di Ancona l'emozione e insomma l'importanza l'emozione e l'orgoglio di poter ospitare questo grande vertice mondiale lo facciamo peraltro in un contesto storico che tre secoli fa è nato proprio qua il presidio di sanità pubblica oggi celebriamo il grande vertice sulla sanità quindi una grande ricorrenza una grande coincidenza e speriamo che questo luogo sia particolarmente oltre ad essere evocativo sia di ispirazione a chi poi ha nelle proprie mani le scelte vitali della popolazione della sua salute e della sua qualità della vita del proprio futuro insomma senta Sindaco lei ha già avuto modo di incontrare alcuni delegati ieri sera insomma cosa le hanno detto anche dell'arrivo qui nelle Marche beh alcuni non conoscevano questo angolo d'Italia e ovviamente questo particolare delle Marche insomma sono rimasti particolarmente colpiti poi l'affaccio sul mare sul porto e questo contesto ha fatto conoscere di più e meglio il capoluogo di regione hanno capito quale qual è anche capacità e patrimonio ci sia da scoprire e insomma sono stati particolarmente forieri a parte di complimenti però di grandi gratitudini per la disponibilità che le strutture tutte che il personale insomma ha messo a disposizione e siamo appena all'inizio Maurizio non so se hai domande da studio se no lasciamo andare il sindaco che insomma si deve preparare e all'accoglienza lasciamo lasciamo il sindaco al saluto grazie per essere intervenuto in diretta anche perché c'è un po' di discherpanza di tempo per cui lo lasciamo tranquillamente alle sue responsabilità istituzionali grazie inquinamento e dei sacrifici che dobbiamo fare questo il messaggio riferito a quel torpedone di Maserati che abbiamo documentato siamo sicuri che gli entusiasti della sanità delle marche non siano e poi no questo onestamente l'abbiamo detto più volte bisogna cercare di essere se non altro rispettosi ed educati buongiorno volevo segnalare aria irrespirabile a Camerano e devo dire che su questo sono arrivati altri messaggi quindi verificheremo buongiorno io da Lucrezia vicino a Fano ho un'impegnativa per visita oculistica mi è stata presa in carico dal CUP mi avrebbero dovuto dare un appuntamento sto aspettando ancora di essere richiamata da maggio e anche questo è un tema legato inevitabilmente alla sanità che a detta di molti nelle marche non funziona ripasso dal via in attesa di altri contributi e altri collegamenti ringraziando ancora il nostro Giacomo Giampieri che ci ha documentato l'arrivo delle delegazioni verso la Mole Van Vitelliana e poi la nostra Laura Meda che per prima è riuscita a catturare il sindaco Daniele Silvetti siamo ad Ascoli ora il cassonetto ti riconosce ad Ascoli la differenziata virtuosa vale lo sconto sulla Tari lo dicevamo poco fa meglio differenzi e più risparmi sulla tassa altro tema la questione allagamenti a San Benedetto dove c'è un'attenzione particolare sì anche a San Benedetto sul caso Dengue che ancora non ha avuto prime segnalazioni ma c'è attenzione alta rabbia e disagi nel quartiere dell'Agraria ogni volta che piove forte si allaga raccolta firme su questo fronte ci saranno due postazioni di raccolta firme a San Benedetto una vicino al bar Agraria una vicina al bar Paradiso riservata ai residenti del quartiere la raccolta di firme che da sabato prenderà il via nella zona in particolare di Porto D'Ascoli andiamo al Pesarese in primo piano qui inevitabilmente due news sulla Dengue parla la dipendente Asset tra i primi ad ammalarsi ho vissuto quattro giorni al pronto soccorso con vomito febbre dolori e valori tutti sballati poi la Dengue vista dal punto di vista di questa famiglia toscana arrivata a Fano per un allozzo scatta una super disinfestazione di massa a Pesaro Urbino e Mondolfo i casi salgono a 150 c'è anche un caso lo confermo nella Tolentinate prima di spostarmi verso il Fermano sempre con i giornali e le news online altri messaggi buongiorno sanità i miei genitori abitano a Staffolo costretti a fare il vaccino a pagamento perché il dottore di famiglia si è trasferito a Iesi e nonostante loro siano mutuati lui ha detto che non farà il vaccino di cambiare dottore aiuto è la terza volta che cambiano dottore in quattro mesi il vaccino a cui fai riferimento immagino sia il vaccino contro l'influenza di stagione insomma anche cambiare il medico di base tre volte in quattro mesi è tanta roba per fortuna anche un po' di sollievo dalle foto bellissime che ci mandate questa viene da Fabrizio Cacchiarelli dall'entroterra marchigiano un'entroterra dove oggi occhio c'è segnalazione di vento forte anche con carattere di burrasca e tempesta sulle mari che sarà un giovedì da allerta meteo gialla le previsioni del tempo parlano chiaro quindi attenzione queste sono le zone le vedete in giallo la 1 la 2 la 3 la 4 la 5 rispetto alla 6 che è quella costiera fermana e ascolana dove il vento potrebbe essere assai più intenso Maria Paola Bianchelli ancora voi protagonisti questo è lo stile di Buongiorno TV grazie ragazzi buongiorno a tutti sempre grazie dell'informazione che ci date grazie Giussi Ziatati buongiorno a tutti voi tira una riaccia buongiorno Giacomo e buon lavoro riferirò il tuo saluto verso il nostro Giacomo Giampieri buon giovedì a tutti oggi 21 gradi e nuvole sì oggi è una giornata molto molto tiepida dal punto di vista delle temperature nella zona per esempio della provincia di Ascoli avremo colonnina di mercurio addirittura a solleticare i 30 gradi ripasso dalle news avevo lasciato in sospeso la zona del fermano in primo piano intanto il debutto del nuovo consiglio provinciale ne abbiamo parlato due settimane fa di elezioni provinciali il sostanziale pareggio tra centrodestra e centrosinistra con poi chiavi di lettura diverse a seconda delle zone e dei partiti debutta il nuovo consiglio provinciale di Fermo il vice di Ortenzi in carico affidato a Marco Tulli e poi le deleghe le trovate sul giornale la questione della viabilità tra terza corsia della 14 intanto andiamo di nuovo alla mole vanviteliana perché è arrivato il presidente della regione Marche Francesco Acquaroli vediamo se riusciamo con la nostra Laura Beccardo in diretta vai Laura vai Presidente no no proviamo eccoci eccoci Maurizio vai vai siamo in diretta è appena arrivato il governatore Acquaroli buongiorno quale importanza quale emozione oggi beh una importanza che credo sia sotto gli occhi di tutti Ancona e Le Marche oggi sono la capitale della sanità mondiale dove tanti ospiti di caratura internazionale si sono ritrovati da noi per affrontare le sfide del futuro credo che questo debba essere un grande orgoglio ma anche una grande responsabilità sotto molteplici punti di vista Presidente la salute marchigiana è un modello da imitare? La salute marchigiana nonostante tutte le criticità post covid e tutte le difficoltà di questo momento che purtroppo dipendono da tante variabili e non tutte le conducibili chiaramente dal nostro operato è una sanità che a livello nazionale sicuramente ha dei risultati importanti è una regione che storicamente è tra le prime per il rispetto di Ilea è una regione benchmark quindi unisce la qualità dei servizi anche alla tenuta dei conti nelle marche per due anni consecutivi abbiamo avuto il miglior ospedale pubblico di Italia e soprattutto dato che si parla anche di longevità la nostra è una regione che ha nel suo DNA la longevità una delle regioni più longevi d'Europa e abbiamo IRCA che è l'unico istituto nazionale dedicato proprio alla ricerca sulla geriatria A proposito di questo l'accoglienza dei delegati ieri a Numana anche all'insegno della dieta mediterranea e non solo? Sì è stato un momento bello perché insomma credo che abbiamo veramente accolto questi ospiti internazionali in una delle location più belle delle marche ma non solo delle marche molto caratteristica e che chiaramente è un luogo assolutamente bellissimo esclusivo che ci inorgoglisce questa è un'occasione che serve anche per promuovere le marche Presidente lei appena si è insediato ha dovuto fare i conti con una grande emergenza sanitaria oggi si parlerà anche di questo aspetto cosa ha insegnato alla sua giunta personalmente e alle marche in generale l'emergenza sanitaria l'emergenza sanitaria è stato un momento drammatico a livello globale è stata una gestione complessa difficile dove il nostro sistema e tendo sempre a ricordarlo lo faccio anche oggi ha reagito benissimo anche in quella occasione si è mostrato uno dei migliori sistemi a livello nazionale e su questo bisogna ringraziare e per questo bisogna ringraziare gli operatori e per tutto quello che hanno fatto in quel momento e per quello che stanno facendo oggi al recupero di quella fase così complessa la pandemia ci ha insegnato che la sanità non è negli ospedali la sanità gli acuti si augurano negli ospedali ma prima degli ospedali bisogna ricostruire un territorio che sia in grado di affrontare le sfide e sostenere le nostre comunità lo dico sempre lo diciamo in ogni luogo la medicina del territorio è fondamentale sia per il paziente ed anche per il sistema noi non dobbiamo costruire solo gli ospedali dobbiamo costruire un sistema che dialoga che funziona e che sia concentrato ad affrontare le tante sfide che la sanità ha davanti solo così potremmo essere più efficaci più efficienti e garantire salute ai nostri cittadini grazie grazie noi non sento più Maurizio non so se siamo ancora in diretta stavamo seguendo se mai vai là le foto di Rito che già iniziano con il governatore grazie perfetto abbiamo visto le foto di Rito il governatore Acquaroli il sindaco Silvetti colgo l'occasione per spiegarvi che adesso possiamo parlare in diretta quando le delegazioni arriveranno però le immagini continueranno quindi voi le potete vedere anche raccontare noi per esigenze specifiche insomma che ci sono state spiegate prima non possiamo parlare in diretta ovviamente perché non possiamo parlare a voce alta quindi insomma dovremmo zittirci voi ovviamente continuerete a seguirci grazie alle immagini di Matteo delicato ma io non potrò più parlare quindi mi affiderò a te Maurizio ormai ci siamo in realtà l'orario era quello delle nove ci hanno detto le nove qualche minuto però dovremmo esserci perché insomma non dovrebbero esserci ritardi se non insomma quei minuti canonici di arrivo delle delegazioni quindi io spero che riprenderemo la linea presto magari tra qualche di